Buonasera a tutti. Stasera è una sera magica. Stanotte arriverà Santa Lucia. I bambini devono andare a letto presto e allora abbiamo pensato di accompagnarli al sonno con delle fiabe. Emanuele Zanfretta ci leggerà quindi delle storie che riguardano la tradizione di Santa Lucia e tutto quello che attorno alla storia di questa santa è stato stato scritto per accompagnare i bambini ad addormentarsi. Io vi auguro buon ascolto e lascio Emanuele raccontarvi le storie di Santa Lucia. Allora buonasera a tutti i bambini. Io questa sera ormai posso dire di sapere tutto su Santa Lucia perché questo libro raccoglie tutte le storie di Santa Lucia dall'inizio della sua vita. Qui dentro ho potuto trovare tutte le risposte alle domande che voi mi avete fatto. Qualcuno ha scritto, Matteo ha scritto, ma Santa Lucia è sempre esistita? Cioè intendo è nata santa? Cioè è nata santa con le linee in testa? Oppure prima chissà? Magari era una bambina? Troveremo anche questa risposta. Qualcun altro ha chiesto ma quanti anni fa è esistita Santa Lucia? O meglio Lucia prima di diventare santa? Quanti anni aveva? E perché è diventata santa? E che cosa vuol dire santa? Ho un'altra parola un po' difficile, ma cercheremo la risposta. Qui dentro ci sono tutte queste risposte. Qualcuno ha chiesto anche ma perché Santa Lucia viene proprio questa notte tra il 12 e il 13 dicembre? Qualcuno anche ha chiesto ma perché Santa Lucia suona i campanelli per indicare il suo arrivo? E qualcun altro ancora ha chiesto ma perché a cavallo di un asinello? Ma dico nel 2020 ma non potrebbe volare su qualcosa di più comodo? Oppure non potrebbe andare in motocicletta? O che ne so io su un trattore quando deve raggiungere un paese lontano o pieno di neve della montagna? Beh qui dentro ci sono tutte le risposte ma andiamo per ordine e cominciamo con la prima storia di Santa Lucia. Perché Santa Lucia proprio a Verona? Dicevamo Santa Lucia è nata tantissimo tempo fa. Pensate 1700 anni fa. Qualcuno ha chiesto quanti sono 1700 anni fa? Immaginate di mettere assieme l'età di vostra mamma, l'età di vostro papà, del nonno, della nonna, della zia, quella che viene sempre a Natale e poi non si vede mai. Poi del vostro vicino di casa, del macellaio, delle maestre. Si sa che le maestre hanno un sacco di anni, hanno tantissimi anni. Le mettete assieme e tornate indietro, indietro nel tempo. Non c'erano i computer e non c'erano i tablet. C'era solamente a Siracusa nel 300 dopo Cristo 1700 anni fa, una bimba di nome Lucia. Ma andiamo per ordine. Perché a Verona si festeggia Santa Lucia? Ve lo racconteremo con la misteriosa malattia di Verona. Molti anni fa, poco prima di Natale, nella città di Verona accadde un fatto stranissimo. Una mattina tutti i bambini si svegliarono, aprirono gli occhi, e scoprirono di non vederci più. Qualcuno non riusciva più a riconoscere i colori. Qualcun altro dai suoi occhi non vedeva più la mamma, non vedeva il papà. Ciascuno non vedeva più proprio sotto il proprio naso. Tutti avevano un disturbo diverso e i medici non riuscivano a capire che cosa stesse succedendo. Allora le mamme e i papà iniziarono a chiamare medici da tutta la città di Verona, dalla provincia di Verona e dalle città vicine. Ma questi medici quando si incontravano chiedevano tu hai forse capito qual è il problema degli occhi di questi bambini? Ma nessuno, nessuno di questi medici sapeva dare una risposta. Allora tutti i genitori preoccupati si riunirono assieme e scesero nella piazza del paese di Verona, nella piazza Bra, la grande piazza nella quale sicuramente anche tutti quanti voi siete stati. E là decidero, decisero assieme che cosa si poteva fare. Dopo lunghe discussioni decisero allora di andare nella chiesa di Santa Lucia che era proprio lì vicina. Ora non c'è più, c'era una grande chiesa dedicata a Santa Lucia e al suo interno c'era una statua. I genitori andarono verso la statua della Santa e chiesero che cosa dobbiamo fare per far guarire i nostri bambini da questo malanno agli occhi. E la Santa disse loro in preghiera che avrebbero dovuto andare nelle loro case, prendere i bambini e li avrebbero dovuti portare all'interno della chiesa. Così tutti i genitori tornarono a casa, le mamme e i papà, e andarono dai loro bambini e dissero su, vieni, ti dobbiamo portare da Santa Lucia, la protettrice della vista e degli occhi. Ma c'era tanto freddo fuori e i bambini non volevano alzarsi dal loro letto o da vicino al cammino dove se ne stavano al caldo. Così i genitori fecero una promessa. La Santa, infatti, aveva detto loro, dite ai vostri bambini che se verranno sotto la mia statua, anche se dovranno affrontare il freddo e la neve di questa notte, domani mattina troveranno dei doni e dei regali. Così tutti quanti i bambini iniziarono ad alzarsi dai loro letti, si riversarono nelle strade e tutti quanti andarono nella grande piazza di Verona, piazza Bra. Lì vicino c'era la chiesa di Santa Lucia. Ad un certo punto tutti quanti si erano recati con delle candele in mano. La luce era tantissima. Non c'erano ancora i lampioni, stiamo parlando di tantissimo tempo fa. C'era freddo ed iniziò a nevicare. La chiesa era tutta illuminata. La statua di Santa Lucia era illuminata dalla luce di queste candele. Così questa grande luce, unita alla fede e alle preghiere di questi bambini e di genitori, riportò a loro la vista. Poi ritornarono a casa ed il giorno successivo, all'indomani mattina, tutti quanti i bambini trovarono, come la Santa aveva promesso, un sacco di doni, giocattoli, dolciuni e ogni loro desiderio si trovò così avverato sotto le finestre di casa. Questo, bimbi, avvenne proprio la notte tra il 12 e il 13 dicembre e da quel giorno, ecco, che si festeggia Santa Lucia proprio, proprio questa notte. Santa Lucia è in effetti la protettrice, come dicevamo prima, della vista e aiuta tutti quanti a vedere un po' meglio. Qualcuno di voi ha chiesto quindi perché a Verona? Ecco il perché. Perché da Verona iniziò poi a spargersi questa notizia e tutti dissero, ma come? Sapete che a Verona c'è questa cosa e Santa Lucia porta i doni a tutti i bambini la notte del 12 dicembre. Allora in tanti altri paesi Santa Lucia iniziò piano piano a portare doni perché tutti quanti invocavano Santa Lucia in questa notte dell'inverno. I doni di Santa Lucia. Era un inverno gelido, vuol dire che era molto, molto freddo, era più freddo del solito. Persino gli anziani non ricordavano più un anno tanto, tanto freddo. Per uscire di casa e andare a dar da mangiare agli animali, i contadini pensate che dovevano indossare uno sull'altro tutti i maglioni che avevano. Una maglia, una maglietta, una camicia, un maglione, sopra ancora una coperta. Tanto era il freddo. Ma il freddo non era l'unico problema. L'estate precedente nei campi poco grano era maturato e così i contadini avevano poca farina per fare il pane. C'era chi possedeva molti campi e aveva però dei granai pieni di farina, di grano, di pane, di polenta. Ma non erano felici, perché sapevano che c'era qualcuno, qualche povero contadino, che non aveva di che sfamarsi, non aveva il pane da mettere in tavola e da dar da mangiare ai loro bambini. Così, visto che Natale si avvicinava, iniziarono i contadini a raccogliersi e a parlare tra di loro. Caricarono così dei sacchi di farina sulla schiena dei loro asinelli. Ecco perché gli asinelli. E mandarono questi asinelli di casa in casa. Così, con le loro ceste piene di pane, di provviste e di cose buone da mangiare e da sfamarsi per l'inverno, gli asinelli girarono tutta la città di Verona e poi tutta la provincia di Verona. Arrivarono anche a Tregnago e in tutta la montagna veronese. I contadini poveri subito però avevano paura ad uscire dalle loro case, ma gli altri iniziarono a suonare dei campanelli. Ecco perché Santa Lucia suona i campanelli. Con i campanelli stavano avvisando i loro amici contadini che per loro c'era una sorpresa, c'era un dono, c'era un regalo, c'era qualcosa di buono da mangiare. Molti contadini iniziarono così a piangere di gioia e si convinsero che a mandare loro quel dono inaspettato fosse stata proprio Santa Lucia, perché era, come questa notte, la notte del 13 dicembre di tantissimi anni fa. Da quel giorno, ogni anno, è diventata una tradizione celebrare Santa Lucia. I bambini, e anche voi questa sera, mi raccomando, vanno a dormire molto presto e sperano di trovare un sacco di doni la mattina dopo. Chi resta sveglio per spiare quel che succede, o chi resta sveglio per spiare Santa Lucia, rischia brutto, rischia di ricevere una manciata di cenere negli occhi. Prima di attormentarsi, nel silenzio della sera, ogni bimbo aguzza le orecchie, sperando di sentire da sotto le coperte lo scampanellio dei campanelli di Santa Lucia. Beh, io vi dirò che prima, mentre cercavo queste fiabe e leggevo il mio libro, ho sentito proprio questi campanelli di Santa Lucia. Questa storia ci ha raccontato anche il perché dei doni, e chi è stato a portare i doni, sono stati gli asinelli, perché erano gli animali preferiti da Santa Lucia, erano i più docili e i più sensibili, i più forti, e quelli che non avevano paura della neve e del freddo. Così, da quella notte, Santa Lucia si è sempre, sempre fatta aiutare da un asinello. Tornando sempre a Verona, voi sapete che c'è qualcuno di molto curioso che nella notte di Santa Lucia vuole rimanere sveglio. Qualcuno di voi ha chiesto, ma come mai Santa Lucia butta il carbone negli occhi a chi non vuol dormire e a chi rimane sveglio? Beh, io non lo sapevo, ma ho trovato una spiegazione nel mio grande libro che vi dicevo prima. Dovete sapere che molto tempo fa nella montagna veronese esisteva un bambino di nome Bartolomeo. Bartolomeo era il più curioso di tutti. Avete presente il vostro compagno di classe? Quello più curioso? Quello che continua a fare domande? Quello che se anche la maestra spiega una cosa, beh, lui fa ancora un'altra domanda e quando la maestra ha spiegato lui fa ancora un'altra domanda. Ecco, quei bambini lì sono un po' i bambini come Bartolomeo, sono i bambini più curiosi, quelli che vogliono vedere Santa Lucia. Ma ascoltate bene cosa accadde a Bartolomeo. Mancava solo un giorno al 13 dicembre e tutti i bambini aspettavano con impazienza l'arrivo di Santa Lucia. Tutti, tranne uno. Bartolomeo era il figlio dell'uomo più ricco del paese e credeva di poter fare sempre tutto ciò che desiderava. Io resterò sveglio, diceva Bartolomeo, e chiederò a Lucia di lasciarmi guardare nel sacco dei doni per scegliere quello che più mi piace, diceva con decisione. Bartolomeo non si accontentava di un dono di Santa Lucia, voleva vedere e scegliersi il dono più bello. Chissà come andrà a finire questa storia. Gli altri bambini scuotevano la testa, sapevano che non si poteva scegliere il dono, sapevano che sarebbe stata Santa Lucia a portare un dono e a dare quello che aveva, ma sapevano anche che Bartolomeo era una testa dura. Quella notte Bartolomeo si sistemò sulla poltrona di casa, ordinò di accendere il fuoco del camino e si preparò, così, ad aspettare Santa Lucia. Passavano le ore e non accadeva proprio nulla, c'era un silenzio. Oltre alla finestra si vedeva solamente il sole, scusate la luna e il cielo oscuro. Allora il bambino a un certo punto iniziò a sbadigliare, pensando, qui non succede nulla. Poi le palpebre si fecero pesanti e, infine, si addormentò. Ma, si sa, la poltrona non è così comoda come un letto. Così, quando udì i campanelli di Santa Lucia suonare nell'aria, subito si svegliò. Bartolomeo spalancò gli occhi e balzò su in piedi. Vide che il fuoco nel caminetto era ormai spento e qualcosa stava spuntando dal camino. Stava scendendo giù dalla canna del camino. Si avvicinò allora, piano piano, un po' timoroso, e guardò meglio. Sembrava, sembrava la zampa di un asinello. «Santa Lucia!» esclamò il bambino. Ma l'asinello era timido, aveva paura e si spaventò nel sentire la voce di Bartolomeo. Così l'asinello iniziò a correre e a risalire su per la canna del camino, sollevando tantissima cenere. E tutta quella cenere finì proprio negli occhi di Bartolomeo. Il giorno dopo, Bartolomeo raccontò che cos'era accaduto a tutti i suoi amici. E da quella volta si diffuse la storia secondo cui chi cerca di vedere Santa Lucia o chi la spia o chi da sotto le coperte vuol vederla, sapete che succede? Riceve negli occhi una manciata di carbone. Per colpa di Bartolomeo tutti i bambini curiosi vengono così ripagati. Quindi, tornando appunto da Santa Lucia, abbiamo visto un sacco di cose e di domande interessanti. Qualcuno ha detto «Ma perché l'asinello?» Beh, c'è una storia che parla proprio dell'asinello di Santa Lucia a Verona. E fu proprio l'asinello a scegliere Santa Lucia, a quanto pare da questa storia, e non Santa Lucia, a scegliere un asinello. Diciamo che erano, avevano una simpatia reciproca. Ma andiamo un po' a vedere questa storia dell'amico fidato. Era quasi giunto il momento di partire per consegnare i regali e i dolci a tutti quanti i bambini buoni. Quando Santa Lucia scoprì che il sacco pieno di doni, era davvero troppo grande ed era troppo pesante per lei. Quell'anno, infatti, tutti i bambini si erano comportati bene, per cui aveva dovuto mettere nel suo sacco tantissimi doni. Senza pensarci troppo, Lucia se lo caricò in spalla e così si mise in cammino. consegnò i primi doni, ma presto il sacco cominciò a pesarle sulla spalla. Aveva nevicato ed era così difficile camminare sulla strada. Tra sé pensava, ah, non riuscirò mai a raggiungere tutti i miei bambini per tempo. Così si fermò per riposare. Vide che il sacco era ancora pieno e pensò alla delusione dei piccoli bambini quando, al loro risveglio, avrebbero pianto per il dispiacere. poco distante c'era un asinello. Eccolo che arriva, che dormiva nella sua stalla. L'asinello sentì Santa Lucia piangere e subito decise di uscire a vedere chi attraversasse la campagna a quell'ora di notte con la neve ed il freddo. E trovò proprio Santa Lucia con il suo sacco pesante di toni. E subito capì qual era il problema. L'asinello si avvicinò a Lucia e disse, non preoccuparti Lucia, io sono forte e posso aiutarti, disse l'asinello. Si caricò in groppa il sacco e seguì Santa Lucia, casa dopo casa. Quando Santa Lucia ebbe terminato di portare tutti i regali nelle case di tutti i bambini buoni, parlò con l'asino e disse, sei stato molto generoso, o mio asinello, e mi hai aiutato senza chiedere nulla in cambio. Così disse Santa Lucia dopo aver consegnato l'ultimo regalo. Per ringraziare l'asinello lo invitò a seguirla in cielo. E così Santa Lucia iniziò a volare verso il cielo. L'asinello, che fino a quel momento aveva semplicemente solo camminato, iniziò a volare. Lui stesso non credeva. Ai suoi occhi era diventato l'asinello di Santa Lucia. E così l'asinello e Lucia devennero buoni amici. E ancora ad oggi viaggiano insieme per distribuire i regali ai bambini più buoni. Ed è proprio per questo motivo, bambini, che Santa Lucia scelse degli asinelli per portare il pane ai bambini che avevano fame e non avevano più nulla da mangiare. E fu per questo motivo che l'asinello scelse di aiutare poi Santa Lucia per portare i doni a tutti i bambini. Perché tutti i bambini che si erano comportati bene e tutti voi bambini che certamente vi siete comportati, anch'io mi sono comportato bene, tutti noi che ci siamo comportati bene. In questa notte sogneremo Santa Lucia. Ed ora mi raccomando tutti quanti sotto le coperte a dormire. Non fate capricci, non svegliatevi questa notte e solo domani mattina potrete alzarvi quando ci sarà un po' di luce e sarà una mattina meravigliosa in cui troverete tutti i doni di Santa Lucia. Anch'io me ne vado subito a letto, mi metto il mio pigiama, porto Teddy che ha letto con me tutta la storia di Santa Lucia, la conosce tutta anche lui. E a questo punto non mi resta che ricordarvi che domani mattina alle ore 11 Claudia leggerà le storie del gufo che va in vacanza e mentre il gufo va in vacanza io e Teddy se ne andiamo a letto perché abbiamo paura che Santa Lucia ci trovi svegli e ci butti del carbone negli occhi. Buona serata a tutti quanti e buonanotte a tutti i sognatori. Ciao a tutti i bambini.